Buongiorno a tutti, sono Lina Vergara, editore di Logos Edizioni e oggi ho il piacere di avere qui con me Stefano Bessoni, autore, regista, illustratore, docente, cos'altro, sceneggiatore, cos'altro sei Stefano. Ciao Stefano. Vabbè, niente, si fa quello che si può, insomma. Fai il burattinaio. Burattinaio, sì, sì. No, vabbè, fai dei burattini bellissimi, poi dopo le figurine, quelle con cui dopo animi le stop motion, no? Sì, sì. Molto bello. Allora Stefano, oggi siamo qui per presentare, anche se è uscito da un po', però non l'avevamo fatto ancora online per chi non riesce a raggiungerci in fiera o, insomma, quando abbiamo degli eventi pubblici, Struwell Peter, la storia di Pierino Porcospino. Sì. Se ci vuoi raccontare da come ti è venuta l'idea di questo libro, come l'hai incontrato per la prima volta questo libro, visto che si tratta di un'opera già pubblica. Vabbè, raccontaci pure. Allora, vabbè, a differenza di tanti altri progetti, cioè tu sai che l'incontro con un libro è sempre casuale, ma è alla fine uno strano gioco del destino, perché diciamo che sono un po' i libri che cercano noi. Così era capitato con l'alice, con Pinocchio, con i canti della forca, con tante altre cose. E anche comunque quando poi si lavora su un progetto originale è sempre frutto di tante suggestioni che, a mio avviso, non sono mai casuali, ma sono uno strano gioco. E Struwell Peter, Pierino Porcospino, non fa sicuramente eccezione, però è uno di quegli incontri che fino a un certo punto della mia vita ho un po' evitato, un po' rifiutato. Perché ho memoria del libro di Pierino Porcospino, l'edizione italiana in particolare, fin da quando ero bambino e poi successivamente anche quando ero ragazzo. Però stranamente, avendo delle illustrazioni un po' seriose, no? Tu ce l'hai presente l'edizione originale. Adesso ce l'ha pubblicato Epli. Sì, 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 è di Epli, ma anche in passato, negli anni settanta. Era sempre Epli ad averlo pubblicato e anche precedentemente, però le illustrazioni hanno quel non so che di serioso e quindi non mi hanno mai attratto particolarmente. E quindi non mi ero mai soffermato a leggere il contenuto, no? Perché poi l'incontro con un libro, con un libro illustrato in particolare, è fatto d'impulso. Ci sono quelli che ti attraggono immediatamente, non li molli più e quelli che comunque hanno bisogno di un feeling particolare. Scusa se ti interrompo, ma chi te l'ha regalato Pierino Porcospino a te da piccolo? Cioè come l'hai incontrato? No, nessuno. Nessuno, l'ho visto in biblioteca, in biblioteca a scuola, nelle librerie, magari in vetrina. Però sono quei libri che, niente, per una strana cosa non mi hanno mai attratto. E ho riavvicinato solamente adesso, in età adulta per non dire da vecchio, quando l'illustrazione è diventata un po' la mia professione anche dal punto di vista didattico e quindi andando veramente a scartabellare tra le righe della storia dell'illustrazione, a quel punto è riavvenuto, è riavvenuto l'incontro e ne sono rimasto folgorato perché finalmente ne vedi i contenuti, i valori, attraverso quello vai a rivedere quelli che erano anche i disegni originali dell'autore, tutto quello che c'è dietro e quindi niente, scatta, scatta quel meccanismo che poi non te ne fa più liberare, insomma. Quindi questo. E quindi adesso lo condivido, così lo vediamo tutti insieme. Sì. Sposto un po' di mascherine. Ok, bene, questa è la copertina. Sì, diciamo che... E quindi nella tua riproposta, sì, come l'hai strutturato? Allora, ho rispettato in maniera filologicamente giusta quello che era l'originale, quindi addirittura per quanto riguarda i componimenti, perché sono, ecco, quello che è giusto dire, non c'è una storia vera e propria, c'è semplicemente un filo conduttore, sono una serie di componimenti di filastroque, una raccolta con protagonisti dei bambini che combinano delle cose alla fine neanche tanto gravi, però per una sorta di strana legge del contrapasso, diciamo che rimangono vittima delle loro stesse malefatte, delle loro stesse marachelle. Ti posso chiedere di leggere questa di Pierino Porcospino, così per averla con la voce di Bessoni? Ok, e abbiamo così anche l'immagine di questo bambino sporco, puzzolente, non ne avvertiamo naturalmente l'odore attraverso le illustrazioni. Allora, Oh che schifo quel bambino, è Pierino il Porcospino, egli ha lunghie smisurate che non furono mai tagliate, i capelli sulla testa gli han formato una foresta, densa, sporca, puzzolente, dice a lui tutta la gente, Oh che schifo quel bambino, è Pierino il Porcospino. Grazie, su queste robe un po' fettici. Sì, niente, Pierino è solamente il primo ed è quello che fa un po' da filo conduttore, ma diciamo che viene messo come prima filastrocca solamente alla quinta edizione del libro, quando ormai il libro ha un grandissimo successo. Prima era uno dei personaggi secondari, ma evidentemente il fatto di avere un bambino sporco, con le unghie smisurate, i capelli arruffati, diciamo ha fatto un po' da elemento identificativo per i bambini a cui era destinato il libro e qui da un certo punto si decide di renderlo protagonista e addirittura, diciamo, caposaldo di queste serie di filastrocche. Gli altri bambini sono bambini cattivi che maltrattano gli animali, che disobbediscono, che giocano con i fiammiferi e rimangono bruciati, vanno in giro guardando in aria e quindi finiscono in un canale. Sono tutte storielle così, molto molto semplici, ma complesse dal punto di vista del componimento letterario. Non dimentichiamoci che siamo nella prima metà del 1800 e quindi anche il modo di portarsi nei confronti dei bambini è completamente differente. Per questo ho voluto ottenere proprio integrale la prima traduzione italiana di Gaetano Negri, perché proprio come metrica, come ritmica delle filastrocche insomma credo che sia ineguagliabile, non avrebbe avuto ragion d'essere andare a rilavorare nuovamente su una nuova edizione dal punto di vista letterario. Ho però mantenuto i personaggi e le suggestioni che arrivavano dalle illustrazioni originali prima di Hoffman, che era l'autore sia del testo che delle illustrazioni, perché non dimentichiamoci che è un libro creato per il figlio di quattro anni. Hoffman era un neuropsichiatra infantile, molto importante, era il responsabile del manicomio. A quell'epoca manicomio si chiamava, quindi non potevamo neanche parlare di istituto psichiatrico, per bambini problematici. Lui, per intrattenerli, per farli lavorare, distrarre, scriveva per loro queste filastrocche. In occasione di un Natale, cercava un regalo per il figlio a letto Carl di quattro anni e non trovando nulla, secondo lui, di adatto al bambino e cercando un libro educativo, decise di creare un manoscritto con filastrocche e disegni da regalare al bambino. Senti, ma è incredibile questa cosa che all'epoca c'è un neurochirurgo, giusto? Neuropsichiatra. Era anche chirurgo, perché comunque lui era forte nell'anatomia, nella medicina, nella chirurgia. Addirittura aveva aperto una clinica per i poveri, in modo tale che potessero avere delle cure anche gratuitamente. E successivamente si appassionò alla neuropsichiatria, specializzandosi ulteriormente in quella infantile. Beh, comunque dicevo, è incredibile che a quell'epoca, no? Questa persona decida di scrivere questi componimenti per il figlio di quattro anni, quando oggi non ci sogneremo mai neppure far leggere delle storie così a dei bambini. No, sono difficili dal punto di vista letterario e anche la dimostrazione che io sia riuscito ad avvicinarmi a questo libro, solamente comunque in età adulta, credo che sia la dimostrazione di tutto questo. Mentre all'epoca, nel 1845, quando poi uscì la prima edizione, era un libro pensato e destinato a bambini piccoli, a partire dai quattro o cinque anni in su. Cosa credi che sia cambiato nel frattempo? Sarebbe interessante poter intervistare lui, per chiedergli dal punto di vista suo, proprio di psichiatra? Sì, ma sicuramente, vabbè, inutile dire che sono cambiati i tempi. La formazione anche dei bambini e oggi forse anche a sproposito si è iperprotettivi nei confronti dei bambini, soprattutto piccoli. Quindi se prima non ci si faceva troppi problemi, i troppi tabù nel raccontare storie. Poi questo discorso mi pare che l'abbiamo fatto tante volte, l'edulcorazione anche nei confronti del mondo della fiaba, di quello che si pone anche nei confronti dei più piccoli, il fatto di vivere in una società che è basata sul rimosso, non si può più parlare di morte, di sessualità, di tante problematiche che invece sarebbe giusto affrontare come avviene in altre culture. E poi in questi ultimi decenni si è andato sempre più avanti su questo fino ad arrivare ad una sorta di iperprotezione che a mio avviso ha un pochino rimbecillito anche le nuove generazioni. Di questo me ne rendo conto anche lavorando sulla didattica come educatore e vedo generazione dopo generazione dei ragazzi che arrivano sempre più spiazzati, problematici. A questo ci aggiungiamo anche il periodo del Covid e diciamo la frittata è fatta. Quindi forse una soluzione potrebbe essere torniamo a leggere ai bambini da quattro anni in su Pierino Porcospino? Ma sicuramente sì, leggendoglielo e spiegandoglielo, diciamo, non abbandonandoli a se stessi, quindi non lasciandoli con la bambina che se gioca con i fiammiferi rimane carbonizzata e si brucia, ma attraverso questo racconto spiegandogli anche dov'è l'errore, quello che non bisogna fare. E poi scusami, ma se tu giochi con i fiammiferi è poi vero che corri il pericolo di carbonizzarti, non è che sia una cosa surreale. Infatti, ma guarda, lo sentiamo tutti i giorni anche al telegiornale, problemi con le stufette, con i fiammiferi, quindi educare anche su questo credo che non sia sbagliato. Sai cosa mi hai fatto venire in mente con questa storia della bambina che si brucia, che prende fuoco a quella raccolta di filastrocche di Tim Burton, la melancolica morte del ragazzo ostrico. Sì, la morte melancolica del bambino ostrico, sì. Credi che ci... E poi ci sono anche quelle di Edward Gorey. Pensi che ci sia una sorta di... Non credo di parallelo, ma di evoluzione a partire da Pierino Porcospino, poi andando avanti con Gorey e con Tim Burton? Allora, sicuramente sì, anche perché Struel Peter dà origine, e tra l'altro di questo ne ho parlato a lungo con Pompeo Vagliani del Musli, il Museo di Storia dell'Illustrazione di Torino, con il quale abbiamo ipotizzato anche in futuro di organizzare magari una mostra, qualcosa dedicata proprio a Pierino Porcospino, e lui le chiama le Struel Peterate. Cioè diciamo che Pierino Porcospino dà origine a una serie di imitazioni che è pressoché smisurata in tutti i continenti e in tutte le lingue. Quindi sicuramente anche la morte malinconica del bambino ostrica potrebbe essere una conseguenza. E anche le storielle di Gorey con l'alfabeto dedicato ai bambini morti tragicamente. Però per quanto riguarda Tim Burton, in questo ultimo periodo in cui ho avuto modo veramente di studiarlo a fondo, anche collaborando alla prima mostra italiana, al Museo Nazionale del Cinema, e ho scoperto che poi dall'alto era il tema dell'ultima biennale di Venezia, Il latte dei sogni, di Leonora Carrington. Ah, non ne so niente. Che è anche lì una serie di filastrocche molto simile a Pierino Porcospino, però molto più liberi perché si legano al movimento surrealista, all'arte del sogno. E la Carrington nel suo periodo in cui stava a Città del Messico raccontava delle storie ispirate ai sogni che aveva per i bambini, per intrattenerli. Ma sono pubblicate? Scusami, scusami. Sì, 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 sono pubblicate da Enaudi, mi sembra. E tra l'altro è bellissimo perché la struttura è molto simile, quindi storie apparentemente slegate tra di loro. E lei aveva ripreso i disegni che faceva in questa stanza, che non mi ricordo come si chiama, di una casa di Città del Messico, dove c'erano tutti i personaggi strambi, filiformi, molto simili a quelli di Tim Burton. E tutti questi racconti che hanno il sogno, il latte dei sogni, quindi quella sorta di sostanza che poi, secondo lei, provoca i sogni, la libera immaginazione, sono una serie di filastrocche molto molto simili a queste. Quindi, secondo me, Burton, senza mai dichiararlo, si è ispirato sicuramente direttamente al latte dei sogni di Leonora Carrington e poi, probabilmente, sicuro ad Edward Gorey, ad altri autori come Dottor Seuss e indirettamente, perché quella di Tim Burton poi, come mi piace definirla, è una cultura riflessa. Lui arriva a determinate ispirazioni, a determinate conclusioni, avendo una suggestione riflessa da qualcos'altro, poi successivamente lo approfondisce. L'esempio è quello dell'espressionismo tedesco che lui non analizza in prima istanza, ma ci arriva attraverso i film della Hammer, quindi gli arriva l'espressionismo tedesco attraverso delle rappresentazioni che sono i film della Hammer e successivamente, quando poi è arrivato ad un determinato risultato, lo approfondisce ulteriormente e lo fa suo. Quindi diciamo che è il classico esempio di cultura riflessa. E quindi probabilmente anche Hoffman con Pierino Porcospino gli arriva in questo modo. Che interessante. Tra l'altro, adesso rifaccio vedere il libro, perché non lo sapevamo, ma c'è il museo a Francoforte di Pierino Porcospino. Sì. Quindi è un'opera molto importante, no? Per la Germania, o no? Per la Germania è fondamentale ed è chiaramente inserita nei piani scolastici, anche per i più piccoli viene letta a scuola. È un po' come per noi Pinocchio, la stessa cosa. A Francoforte chiaramente c'è un museo dedicato interamente a Hoffman e a Pierino Porcospino, dove ci sono tutte le edizioni possibili, immaginabili, e c'è anche la nostra. Quindi di questo ne sono felicissimo, perché quando la direttrice, la curatrice, mi ha scritto per dire che l'avevano inserito all'interno delle varie edizioni, insomma, è stata... Pensa che non sono ancora andata. Neanch'io, neanch'io e... Buongiorno, andiamo. Ma speriamo magari in futuro, ecco, anche col Musli di Torino, di poter organizzare qualcosa, perché poi quando, ecco, sono andato qualche mese fa e Pompeo Vagliani mi ha mostrato tutto l'archivio delle strue ilpiterate, sono rimanato a bocca aperta, perché sono armati, armati, pieni di edizioni, edizioni, ma edizioni particolari, anche con sagolme ritagliate, pop-up, cioè c'è veramente di tutto. Ah, bello. Va bene Stefano, io ti ringrazio, ci vediamo a breve in Fiera Bologna, dove ci farai anche le dediche, a chi le vorrà. Certo. Speriamo a tante mamme o tante docenti per i bambini piccoli a vedere se cambiamo un attimo, no? La situazione che apolvogiamo un po'. Certo. No, e tra l'altro per concludere possiamo dire che stiamo lavorando su una di queste struguelpiterate. Ah, è vero. Che sono le tribolazioni di Tom Tiptop, che è un bambino tanto, tanto cattivo, che fa del mare agli animali e poi, come solita legge del contrappasso, subirà le stesse cose. In sogno, durante un incubo, però. Ecco, e anche quello è una delle tante filiazioni che questo libro ha avuto. Bene. Non vediamo l'ora di vederlo. Io ti ringrazio molto per il tuo tempo, le spiegazioni, come sempre, perfette. È sempre un piacere. E ci vediamo presto. Benissimo. Grazie a tutti. Ciao. Ciao Stefano, ciao. Ciao Stefano, ciao. Ciao Stefano, ciao Stefano, ciao Stefano.